Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Al di là del lavoro e della famiglia, Caterina Balivo è una donna molto sensibile, impegnata nelle battaglie contro le ingiustizie e contro le malattie, che molto spesso si rivolge ai suoi fedelissimi telespettatori, spronandoli alla sensibilizzazione. Appelli in favore della ricerca, con un occhio attento ai pazienti oncologici, ad esempio. Un contribuito che la bella conduttrice partenopea vuole apportare avvalendosi anche dei social, in particolare del suo seguitissimo profilo Instagram, dove si è mostrata con un cartello tra le mani, con sopra un importante numero da chiamare. Lo scatto è correlato da una didascalia che recita. In Italia ogni anno 1.400 bambini si trovano a combattere il cancro con tutta la forza che hanno. Insieme possiamo salvarli. Aiutiamola la Fondazione Umberto Veronesi a finanziare la ricerca scientifica per garantire loro migliori cure e sconfiggere le malattie. Possiamo farlo inviando un SMS al 45.516. La Balivo è senza ombra di dubbio una delle conduttrici nostrane tra le più attente e sensibili a temi su cui è doveroso intervenire. Mettendo a disposizione la sua popolarità per supportare cause molto importanti, con la speranza che i suoi messaggi non passino in secondo piano o cadano nel dimenticatoio. Davvero una donna umile, una professionista che sentiamo come un'anima, una confidente, senza percepire lo stacco tra il mondo VIP e il mondo di noi, comuni mortali, lontani dai riflettori. E voi, cosa ne pensate della Balivo?